Maurice Torres opposto di Molfetta, insomma, playoff raggiunti, obiettivo importante per Molfetta e per questa tifoseria? Sì, è veramente molto importante per noi perché questa è la storia di Molfetta, adesso comincia. Speriamo noi possiamo giocare bene le ultime due partite contro Macerati e Perugia. E entriamo nel playoff e gioca bene contro qualche squadra. Per noi questo è l'obiettivo e noi abbiamo fatto una buona cosa. In Italia ci sei già stato in passato, ma quest'anno a Molfetta è risultata una stagione già importante per te. Poi ci saranno anche i playoff, insomma, che stagione è stata questa per te? Questa è una stagione veramente importante perché ho giocato in Latina l'anno scorso, però non ho giocato tanto, non ho giocato benissimo. E quindi io voglio, io sempre voglio giocare in Italia, oppure io voglio giocare bene per la nostra squadra, per i nostri trifosi, per la nostra società. E noi abbiamo fatto bene oggi, anche la seconda parte della stagione. Questo è difficile per fare con tanti bravi squadri, però abbiamo fatto bene e quindi vediamo che noi possiamo fare nel futuro. Che ne pensi del campionato italiano? È un campionato forte, anche un campionato comodo perché l'Italia è un paese bellissimo dove può mangiare bene, e i tifosi sempre bene, eppure c'è giocatori veramente forti. Speriamo che più persone ritornino all'Italia per giocare, per subire il campionato un po'. Porto Rico ha dato un dispiacere all'Italia, ai mondiali. Cosa hai pensato al tuo ritorno qui in questo campionato? Ah, io lo trovo bene e quando ho ritornato, qualche persona ha ricordato che io ho fatto bene contro l'Italia, noi vinciamo contro l'Italia, però è un momento veramente importante nella mia vita, nella storia di Porto Rico, perché noi mai abbiamo vinto contro l'Italia, quindi questo è un scalo per noi nel futuro, speriamo che noi possiamo fare meglio. Grazie.